Ha scatenato proteste e indignazioni la disposizione dell'ASP di Messina con la quale, dopo la recente nota del Ministero della Salute e la visita degli ispettori dell'ottobre dello scorso anno, è stata di fatto azzerata l'unità di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Barone Romeo di Patti. È stata una vera bomba per un reparto fiore all'occhiello dell'ospedale pattese che vive a stretto contatto con un altro reparto, quello di ostetrice e ginecologia, sicuramente tra i più produttivi. La disposizione dell'ASP ha effetto immediato e a cascata potrebbe determinare ripercussioni negative sull'ostetrice e ginecologia perché non potrà più trattare casi di gestanti con parti inferiori alle 34 settimane. Non solo, ma se questo azzeramento è stato determinato dal fatto che il Barone Romeo è stato classificato a suo tempo come ospedale di base, a questo punto potrebbero esserci ripercussioni negative anche su altre specializzazioni come l'emodinamica. Una vera mazzata per la città di Patti e per il suo comprensorio. Non solo, ma azzerando l'utine dell'ospedale di Patti, di fatto nessun reparto di questo tipo è operativo nel territorio tra Palermo e Messina, dimenticando quando, con disposizione regionale, l'utine era stato istituito al Barone Romeo, riconoscendo all'ospedale e al suo comprensorio una posizione baricentrica. Il sindaco di Patti, Mauro Aquino, già al corrente della situazione, ha contattato l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza per chiedere che si disponga subito un'adderoga al provvedimento dell'ASP per affrontare a tempo debito tutta la questione. Nello stesso tempo, Aquino si è sentito anche con il presidente della regione, Nello Musumeci, al quale ha riferito di aver chiesto all'assessore Razza una soluzione normativa. Ha ricordato che si potrebbe elevare il punto a nascita al secondo livello. Musumeci ha risposto che il problema è di carattere nazionale e che stanno lavorando sul punto. Si sono aggiornati a domani. I consiglieri di opposizione, Filippo Tripoli, Natalia Cimino, Federico Impalà, Mariella Gregorio Nardo, Giacomo Prinzi e Giovanni Di Santo, insieme ai responsabili di Cittadinanza Attiva, si sono subito regati in ospedale per comprendere la situazione e decidere quale iniziative adottare per stoppare l'azzeramento dell'Utin.